Stiamo entrando nella stazione di Milano Centrale Ci manca anche il muro Una locomotiva a vapore della Fondazione FS con carose righe restaurate Un'feccia rossa 1000, l'altro dietro è Intercity Un'feccia bianca Che è questo qui grigio In arrivo, credo da Bari o da Genova Un'feccia bianca Vecchia cabina di comando degli scambi degli anni 30 Questa Questa invece è la cabina B Questa invece è la cabina A Entriamo nella bellissima stazione di Milano Centrale Questa invece è la cabina più moderna fatta 20 anni fa Che è quella che comanda invece tutti gli scambi della stazione di Milano Centrale Questa La bellissima stazione di Milano Centrale Una delle più belle dell'Europa Se farebbero gli ultimi lavori di verniciatura sarebbe ancora più bella Infatti andrebbe più niente di verniciare come si vede Fanno un po' cagare come Hanno fatto con le parti grigi e verniciate Il resto lasciamo che il ferro si corrodi e tira a campare Che ci vogliamo fare? Aspettiamo Farò una bella recensione anche su questo va Ciao sono arrivati e adesso scendo